Quindi vi dicevo, a differenza della procedura precedente, quello che noi andiamo a generare qui non è una polisuperficie, ma un vero e proprio muro, un muro che si appoggia ad una curva di percorso che è la stessa precedente, ma in realtà come vedete lo spazio di modellazione dedicato è un'unica componente, non c'è un processo legato, non c'è un processo geometrico di costruzione della forma, ma c'è invece un processo informativo della parete stessa, quindi il modello parete, la morfologia è gestita da un'unica componente, poi quindi abbiamo la componente che si appoggia alla curva di origine e poi abbiamo una serie di opzioni una serie di opzioni che si legano a attributi e parametri che vanno a definire le informazioni interne alla parete. Ad esempio noi che cosa stiamo facendo? Abbiamo delle informazioni alla parete stessa che sono la stratigrafia, la stratigrafia della parete, superficie esterna, parte strutturale, cartongesso e quindi abbiamo definito gli strati, abbiamo definito per ogni strato gli spessori e queste diventano informazioni di uno stile di parete, una famiglia, quella che in Revit si definisce famiglia, quindi possiamo dire che questa parte qui, questa parte è quella che determina la famiglia. Una volta generata la famiglia possiamo in qualche modo identificare gli attributi, adesso faccio un gioco che se funziona ci aiuta, ctrl c, vado sulle slide e aggiungo una nuova slide, nuova diapositiva, bene, datemi solo un secondo perché così commentiamo insieme la slide. No, no, questa è una slide trasparente, preferisco tornare quindi alla condizione presente, già va benissimo così. Abbiamo detto quindi che questa parte, questa parte è dedicata alla costruzione della famiglia, poi abbiamo invece un'altra parte che è questa sotto che è dedicata alla costruzione dei parametri della famiglia stessa, perché ricordatevi che la parte importante del BIM sono proprio le informazioni che noi possiamo introdurre, questa parte è customizzabile e qui un parametro che ho voluto inserire io è il costo al metro lineare della parete stessa, ma potrei inserire altri parametri customizzabili in qualunque modo, quindi vado a costruire la tipologia di dato che viene inserita all'interno, è un dato di natura economica di cui io definisco il valore ed ecco quindi che abbiamo una serie di parametri che insieme allo stile vanno a definire tutte le informazioni che si inseriscono all'interno della parete stessa. È chiaro che cambia il paradigma di modellazione, da una modellazione legata alla forma parliamo invece di una modellazione legata alle informazioni e questo attraverso il WPL è pienamente esplicitato, infatti qui vediamo tornando indietro come la definizione era totalmente legata alla forma e invece da quest'altra parte la forma è relegata a un'unica componente mentre la parte informativa è totalmente legata alle informazioni. Se vogliamo possiamo anche questa cosa vederla direttamente sullo spazio di modellazione, prima di farlo passo un attimo in chat e vi chiederei se fino adesso è tutto chiaro o ci sono delle informazioni di cui vorreste avere maggiori informazioni rispetto al concetto che vi ho espresso. Ok, mi fa piacere che ci sia chiarezza in questa breve comunicazione e allora andrei un attimino a analizzare quella che è la plugin dedicata, ma vi ripeto la plugin è un po' uno stimolo alla plugin è uno stimolo a farsi alcune domande con degli strumenti semplificati come potrebbe essere VisualArk per Rhino, ma vedete VisualArk come un qualunque modellatore BIM. Ripeto, non sto qui adesso a identificare, a raccontare troppe cose rispetto allo strumento, questo magari saranno comunicazioni dedicate per chi vorrà continuare a seguirmi e informarsi maggiormente. La differenza che vi raccontavo è proprio una differenza legata a questi strumenti che una volta che si installa la plugin si vanno a conformare, questo per esempio è lo strumento parete in cui nel momento in cui vado a costruire una parete, questa si compone di diversi elementi stratigrafici, si definisce già a livello tridimensionale ma soprattutto dà luogo a una serie di informazioni legate alla parete stessa. Se vado qui infatti posso leggere una serie di informazioni e parametri, adesso qui ho una parete di default ma posso io crearmi degli stili, entrare nei parametri della forma e poi eventualmente aggiungere nuovi parametri attributi. La cosa più interessante in tutta questa condizione è proprio gestirla con Grasshopper, per esempio io posso pensare di crearmi una qualunque curva e quindi su questa curva andare ad appoggiare una parete, quindi qui si vanno ad introdurre dei nuovi strumenti, ma prima di tutto devo andare a catturare l'elemento geometrico e per chi, penso più di qualcuno di voi conosce un po' come funziona Grasshopper, ho preso l'elemento geometrico e una parte molto interessante si trova all'interno della scheda Visual Arc, in cui come succede già normalmente in Grasshopper ci sono degli strumenti di costruzione e decostruzione. Vi ripeto, quello che vedo qui è quello che vedo con plug-in che legano il BIM al VPL. In questo momento nella versione 7 di Rhino si sta sviluppando il progetto Rhino Inside che dà degli strumenti estremamente avanzati e ben integrati con la piattaforma Revit, ma la logica è la stessa, quindi io entro con un muro, ho la possibilità di costruire il muro che in prima istanza si poggia qui, ma in realtà appena io vado a inserire la curva questo muro è posizionato sulla struttura che ho appena inserito. Poi ci sono le opzioni, vedete qui la parte formale finisce così, ma la parte importante è la possibilità appunto di dare informazioni all'oggetto, questa di costruisce, ho sbagliato, la possibilità è quella di dare informazioni all'oggetto e quindi andare a creare uno stile allineato in un certo modo rispetto alla curva di appoggio, può distanziarsi di un certo offset e si può garantire una certa altezza. Lo stile può essere creato all'interno di Grasshopper, quindi potete in qualche modo crearvi uno stile parametrico, oppure lo stile può essere creato qui dentro attraverso la scelta del numero di strati e così via. Infatti qui ci sono strumenti per la costruzione dello stile, a cui poter dare un nome, qui ci chiede almeno un layer, qui in questo momento lo stile si compone di layer components, quindi ancora posso almeno inserire un layer ed ecco che il muro si compone di un solo layer, ma in realtà potrei mettere per esempio layer 1, invio, tasto destro, edit notes, invio ancora, layer 2, ok, posso fare un graff e con graff in qualche modo è come se inserissi due nomi, oh non è questo graff, ah sì sì perdonatemi, sono un po' emozionato, qui devo dire multiline data, clic, ok, multiline data, bene, e adesso vedete che l'oggetto si comporrà di più layer, ok, due nuovi layer che posso gestire con due diversi spessori, adesso faccio anche questo, quindi posso pensare di gestire, facendo vedere solo una parte del gioco, posso dire che è fatto di due spessori, punto 1 e punto 3, sono i due spessori, sto mettendo in ballo, quindi vado ad associare gli spessori, vado ad associare gli spessori, e quindi ho uno spessore minore, uno spessore maggiore e così via, diventerà poi quindi un oggetto BIM nel momento che io vado a fare il bake, come sempre il bake dell'oggetto, e qui ho una parete, spengo un attimo, una parete del tutto parametrica perché potrei appunto attivare i punti di controllo, ok, e quindi andare a lavorare su alcune parti di questa parete, eccetera. La cosa interessante ancora è che come si costruiscono le geometrie, si possono costruire gli oggetti architettonici, ma allo stesso modo si possono anche decostruire, quindi al contrario io posso decostruire una parete e quindi qualora ci fosse un modello BIM che entra all'interno di Rino, io lo posso esplodere in quelle che sono appunto le curve che la compongono, le geometrie di base d'appoggio, sto facendo un processo al contrario, e poi tutte le opzioni che lo genero, quindi posso risalire anche alle informazioni, eventualmente catalogarle all'interno di un foglio Excel, tutte queste informazioni. Vado avanti giusto per farvi vedere questo processo che è decisamente interessante, quindi il processo di decostruzione, decostruisco, decostratto wall options, quindi posso leggere lo stile, quindi ancora decostruisco lo stile, e quindi ecco che tiro fuori delle informazioni come possono essere appunto i nomi delle componenti, quindi ancora vado a decostruire, decostratto wall layer, sto procedendo a ritroso sempre, e quindi da qui posso ottenere appunto delle informazioni che possono essere gli spessori che io ho utilizzato, ma anche appunto i nomi, layer 1, layer 2. E quindi pensate proprio al potenziale, un oggetto che arriva completamente, un modello BIM che arriva completamente informato, io lo esplodo e posso inserire all'interno di un foglio Excel qualunque tipo di informazioni, anche informazioni customizzate, quindi raccogliere, ordinarle, prenderle, interrogarle, elencarle in un qualunque modo. Oppure un altro potenziale molto molto interessante è che ogni oggetto architettonico può essere descritto da dei file sintetici, dei file sintetici che possono essere appunto la curva, quindi un CAD molto leggero, con associate delle informazioni molto leggere, che poi appunto possono essere ridate in pasto all'algoritmo che automaticamente, come se fosse una sorta di popcorn, esplode in un modello. Questo è un po' il concetto, quindi alla fine noi potremmo pensare che questo è tutto quello che ci serve, che sono due file, un file testuale, un file Excel e una curva di modello per poter portare in giro alcune informazioni. Potrebbe essere veramente interessante questa cosa. E questa cosa già la incontrate, già è stata descritta sempre sul mio libro, faccio un zoom in avanti, dove effettivamente io dico che una qualunque architettura può essere descritta da alcune forme sintetiche a cui poi vengono associati degli attributi e l'architettura poi diventa effettivamente un modello, un modello parametrico che può mutare nelle forme. Mi fermo un secondo e vi chiedo se ci sono delle curiosità rispetto a quello che vi sto dicendo. ci sono ragazzi delle... intanto do il benvenuto agli ultimi arrivati e vi chiedo se ci sono delle curiosità. Rispondete sempre in chat oppure tutto chiaro, andiamo avanti. Ok, allora andrei tranquillamente avanti e vi illustro alcune altre potenzialità di questo strumento, anzi non tanto dello strumento ma principalmente delle gambe che esiste appunto tra visual programming language, un medio tra disegno digitale esplicito e modello B, ma allora possiamo trovare sicuramente una condizione interessante quando si lavora sul contemporaneo perché il contemporaneo presenta appunto delle forme complesse che vanno in qualche modo gestite nella propria complessità. ma qui in questo caso vedete per esempio che abbiamo una superficie curvata che si muove in maniera libera nello spazio e la difficoltà che può... la difficoltà è una difficoltà principalmente legata alla quantità e alla qualità del dato, per cui effettivamente diciamo che vogliamo creare questa idea, alcuna valenza di natura architettonica ma è giusta, è una condizione complessa che può capitare nell'ambito del progetto. Ho quindi una serie di elementi vetrati, pannelli vetrati che possono essere ancora ulteriormente suddivisi e questi elementi devono essere appoggiati ad una sottostruttura, in questo caso la sottostruttura sono dei travetti AD, che però devono essere sempre orientati secondo la normale della superficie stessa, quindi in ogni punto bisogna tirar fuori la normale e orientare questi piccoli travetti. Diciamo che quello che vogliamo toglierci dalle scatole è soprattutto la parte di modellazione del travetto perché la parte di modellazione anche in questo caso è risolta da oggetti parametrici, se io per esempio vado a cliccare il mio elemento è una trave e quindi ha tutte le informazioni che sono legate alla trave stessa con ulteriori informazioni che io posso aggiungere. Quindi qual è il processo che posso mettere in atto? Ovviamente vi racconto passo passo ma non lo modello perché è stato già modellato e non ci sarebbe il tempo. Allora da cosa si comincia? Ovviamente si comincia dalla necessità, spengo tutto per poi visualizzarlo insieme passo dopo passo. Quindi cosa faccio? Vado a spegnere il modello, vediamo un po' se posso, dovrebbe esserci una parte nascosta che è appunto la superficie iniziale d'appoggio che adesso isolo, quindi vado con isolate. Ok, quindi si parte proprio da questa superficie che è l'estrazione della superficie complessa su cui voglio appoggiare la mia petrata, questa qui non è altro che una loft tra due curve, quindi ancora passo dopo passo vado a prendere la mia loft e la visualizzo, eccola, ho preso la loft, vado in wireframe per vedere bene i passaggi. Questa loft poi vengono, questa è una forma continua, quando si parla di passaggio da modello, prefigurazione del modello in ambiente digitale a un modello che deve essere costruito, si passa sempre per un processo di discretizzazione del modello stesso. La discretizzazione è quella che ho fatto io in questa parte, quindi ho estratto delle curve di bordo, estratte queste curve di bordo, ne ho presa una nello specifico e l'ho suddivisa nel numero di pannelli che voglio ottenere. Ho cercato poi in relazione a questi punti di tirar fuori quelle che sono delle isocurve, quindi vedete che sono proprio, che saranno poi i bordi dei pannelli. Quindi una volta creati i bordi dei pannelli c'è una condizione in cui vado a cercare la normale al centro di ogni bordo. Adesso lo faccio vedere, spengo un attimo quello che non serve, che potrebbe creare disagio. Ok, quindi che cosa faccio? Tiro fuori la normale per ogni centro dei bordi dei pannelli e queste normali serviranno proprio ad orientare una struttura di elementi a travetto. Un attimo solo faccio, quindi chiara la normale la spengo perché anzi la faccio molto piccola, display e vado a fare questa cosa molto molto piccola, proviamo due, ok? Dove qui vediamo i piani che si impostano su ogni, diciamo, sintesi geometrica, assi dei travetti possiamo chiamarli, no? E quindi questa ce la teniamo buona perché è importante. Un altro processo che andiamo a fare è di costruzione delle travi e si passa per la costruzione delle travi da questa parte. Come vi dicevo, la parte geometrica di costruzione delle travi è ridotta ad una singola, ad una singola componente. Una singola componente in cui in questo caso io do informazioni per quanto riguarda lo stile, quindi la sezione che voglio ottenere, ma la sezione può essere cambiata, ci sono delle sezioni standard da manuale che possono essere inserite e questa sezione diventa poi un'informazione della trave stessa. Ma come vedete, all'inizio le travi ovviamente non presentano un orientamento buono, perché purtroppo, diciamo, loro presentano un allineamento standard che quindi va compreso e riallineato. Vedete, per alcune parti funziona, ma per altre parti, vedete, non è normale alla superficie, sono tutte orientate in maniera che qui addirittura è piatta sulla superficie stessa. E allora cosa si fa? Si deve in qualche modo trovare l'orientamento iniziale del travetto, quindi si va a estrapolare l'orientamento del travetto attraverso una serie di passaggi che servono a trasformare l'oggetto BIM in geometria e dalla geometria appunto carpire, vedete, l'orientamento. Adesso di ogni geometria ho, vedete, l'asse rosso del micropannello individua l'asse longitudinale della sezione del travetto. Questa cosa è molto utile perché poi io prendo la normale che ho, che ho, diciamo, identificato sulla superficie e allineo il travetto alla normale per ottenere poi un nuovo travetto allineato. Quindi un primo travetto viene esploso per capire l'orientamento iniziale e poi un secondo travetto viene generato conoscendo proprio, diciamo, l'angolo di cui devo ruotare il primo rispetto alla normale stessa perché appunto gli oggetti BIM non possono essere orientati attraverso un processo di trasformazione ma hanno proprio un parametro di rotazione e quindi io vado a identificare questo parametro di rotazione, adesso spengo. Vado qui, preview, ed ecco qui che abbiamo i nostri oggetti ben ruotati e che poi vengono spostati per essere messi dietro al pannello e quindi diciamo che è una condizione più consapevole che io poi posso gestire aumentando o diminuendo il numero di pannelli e il numero di elementi come si fa generalmente quando si usa un processo parametrico. Questo piccolo esempio serve principalmente a dimostrare quanto può essere utile in un processo costruttivo, quindi nella costruzione del nuovo, una condizione che vi propone già dei modelli pronti ad essere costruiti, che hanno delle informazioni e soprattutto quanto può essere interessante capire come mettere relazioni, geometrie e elementi costruttivi per ottenere dei modelli complessi e come al solito questa comunicazione non vuole avere il valore di insegnare a fare ma diciamo dare un input, un istinto a quello che potrebbe essere l'utilità di un processo condiviso tra visual programmi in language e bim dove in questo caso il bim è un bim ridotto, un bim compresso a quelle che sono proprio le possibilità che ha un modellatore CAD come Rino insieme a un'aggiunta, un addon che è visual arc e quindi ecco che io posso gestire un processo in cui poi posso decidere che il numero dei travetti può diminuire o può aumentare ma la condizione aggiunta è che questi travetti sono sempre ben orientati, normale, alla superficie. torno indietro, accendo il modello, quindi posso andare ad accendere il modello, eccolo qui, qui diciamo entro in shaded, vedo il modello e posso decidere quanto deve essere fitto poi anche in funzione ad altre condizioni che possono essere di qualunque natura. Il modello che ho creato è un modello fatto con superfici sub D di suddivisione che sono un'altra novità presente in Rino 7 che in qualche modo è presente anche in Rino 6 anche se in maniera occulta, per esempio guardate se io vado a generare una superficie mesh disegno questa mesh con pochi punti, ho generato una mesh, questa mesh può essere trasformata in una sub D la superficie sub D è un qualcosa che vi permette di fare dei modelli morbidi sempre in continuità di curvatura attraverso un ingrediente, appunto la sub D, che è un qualcosa che sta a cavallo tra NARBS e mesh quindi ha il controllo della curvatura che appartiene a una rappresentazione matematica ma ha la semplicità di gestione che appartiene alla modellazione mesh. Vi spiego attraverso un comando che non è autocompilativo che è tu sub D, vedete che non c'è un'autocompilazione ma voi state certi che facendo invio mi chiede seleziono la mesh da suddividere, da trasformare in sub D, invio, crease no, corner no, della input sì, faccio invio e vedete che l'oggetto si è ammorbidito e adesso io posso giocare con questo oggetto creando dei elementi estremamente morbidi, quindi posso anche fare una cosa di questo tipo CTRL SHIFT e clicco la faccia, posso estruderla e creare, vedete, degli elementi che possono essere facilmente modellati in questo modo io vado a generare dei modelli molto ben organizzati a livello di topologia e morbidi per la costruzione di un modello di questo tipo, questo modello l'ho fatto in Reno7 che mette a disposizione anche degli strumenti molto avanzati quindi è ovvio che un modello sub D, lo leggo qui, guardate nelle proprietà sub D non è poi gestibile a livello di stampa, quindi sarebbe sempre opportuno scrivere to NURBS per ridare a questo modello un valore di NURBS sub D, sub D options, però adesso non ce n'è ok, e ci rendiamo conto che adesso da una parte abbiamo l'oggetto sub D e da una parte abbiamo una open polysurface che può essere esplosa in tutte le superfici che la caratterizzano che sono tra loro in continuità di curvatura mi fermo ancora chiedo se ci sono curiosità rispetto ai processi che ho appena menzionato allora, Pietro mi chiede se questo comando e chiedo a Pietro di descrivermi in chat di quale comando sta parlando esiste nella versione 6 di Rhino comunque sì, io sto lavorando con la versione 6 di Rhino però ti ho detto sono in sviluppo tu sub D, certo, certo, provaci che provo di applicare su una mesh e funzionerà sicuramente è un mondo nuovo che stanno indagando gli sviluppatori della McNeil e secondo me, a mio avviso è potente, ma non perché è uno strumento diciamo nuovo in sé, le sub D esistono da tempo in altri programmi ma associati a Grasshopper, associati alla modellazione B ma associati ai strumenti di base di Rhino secondo me diventano uno spazio fantastico all'interno del quale muoversi e modellare Danilo mi chiede possiamo definire sub D come una risposta a Rhino e T-Spline? sì, Danilo è una risposta che secondo me va oltre perché è pienamente integrata ed è manipolabile all'interno di Rhino è la cosa migliore che ho visto rispetto alle superfici di Subdivision rispetto a tutte le plugin che ci sono e girano intorno a Rhino questa è la risposta della McNeil è la migliore che abbia visto ancora meglio di Weaver Beard niente, figurati Pietro dice sì, risolve molti problemi per gli amanti di Rhino risolve tantissimi problemi sto andando oltre se per voi non c'è problema vi faccio vedere l'ultimo caso che mi piacerebbe farvi vedere e capire ancora le potenzialità del BIM ma non più su processi del contemporaneo quindi sulla possibilità di gestire una massa di dati informati ma capire anche come il rapporto col BIM può essere sviluppato negli edifici storici posso andare avanti mi prendo ancora un 15 minuti se siete d'accordo ok, se Faisa dice sì ok, vi chiedo però se ci sono delle curiosità fino adesso mi piacerebbe anche interloquire per voi creare un piccolo frammento di spazio dedicato anche a voi che in maniera gentile siete qui adesso a sentirmi chiacchierare va bene il silenzio lo prendo come necessità di riflettere per qualche minuto e poi magari parlarne in un secondo momento anche magari via mail o su Facebook è ovvio che diciamo questa è una lezione totalmente aperta gratis l'unico pagamento che chiedo sono dei commenti su Facebook sui post che ho diciamo messo per pubblicizzare la comunicazione quindi mi aspetto che ognuno di voi metta un commento positivo o negativo sotto i post che io ho messo in questi giorni sul mondo Rino Celos che è un gruppo che gestisco io o su quelli che sono proprio nel mio spazio di Facebook quindi è un pagamento che vi è dovuto allora Pietro dice io trovo difficoltà di imparare tutti i comandi di Grasshopper eh Pietro che ti devo dire allora secondo me non è tanto diciamo imparare tutti i comandi di Grasshopper ma imparare la logica che costruisce gli algoritmi ok su questo ho scritto sto scrivendo ancora qualcosa eh comunque tutto quello che scrivo lo trovo sia nel blog che eh nei canali social che eh gestisco ma eh comunque c'è un sacco di materiale online che ti insegna a ragionare perché poi le cose si trovano è importante capire il processo e l'incipit al processo è proprio la possibilità di costruire e decostruire elementi e quindi inserire all'interno di un processo di decostruzione anche degli elementi originali per lavorare in maniera eh diciamo complessa e avanzata il tempo ti darà ragione se insisterai l'ultima cosa di eh di cui vorrei parlare è quindi passare da un modello eh di questo tipo a un altro modello che è di quest'altro tipo qui abbiamo un modello eh di una questa è Villa Poiana di Palladio eh anche di questo trovate forse qualche paper eh in Researchgate cercandomi su Researchgate eh cercando il mio cercandomi su Researchgate trovate sicuramente qualcosa che parla appunto di un certo tipo di modellazione qual è qui l'apporto del del BIM l'apporto del BIM sta soprattutto nella costruzione di famiglie non customizzate cioè qui per esempio all'interno di questi di queste componenti abbiamo la componente parete abbiamo la componente carton wall abbiamo la componente eh eh trave pilastro porta finestra scala eh ringhiera solaio tetto poi furniture eh mobili e altre cose elements però non abbiamo per esempio l'oggetto cornice in questo caso qui come vedete c'è un elemento eh cornice potrebbe essere questo e adesso copio per mettere da parte andiamo un po' se sono riuscito a copiarlo non ci sono riuscito no forse no allora alt e trascino e dovrei copiare l'elemento perfetto andiamo in shaded mode e qui notate che c'è un elemento in cui abbiamo una serie di diciamo di forme che si susseguono a creare la modanatura la modanatura con i vari dentelli quindi abbiamo degli stelli delle cose dritte rovesci eccetera e questo è un oggetto che non è stato completamente modellato ma è stato invece costruito attraverso un algoritmo in WPL per la eh e questo algoritmo WPL mi ha consentito mi ha consentito di generare una nuova famiglia una famiglia cornice che effettivamente anche in questo caso eh attraverso diciamo la eh attraverso come al solito ho bisogno di una geometria di appoggio che può essere una polilinea e e e su questa polilinea lui costruisce il modello sto facendo un po' di modifiche sto usando il mio piccolo portatile quindi qualche problema lo potrei trovare soprattutto nella gestione delle forme però vedete che è una cornice che mi segue in tutte le eh situazioni cercando di discretizzare il meglio possibile la forma della cornice che poi d'altronde è quello che potete vedere qui eh che mi ha seguito anche sulla parte eh diciamo inclinata e di questa cornice abbiamo la possibilità di gestire nelle proprietà una serie di parametri come ad esempio la profondità della carnice per esempio eh i la distanza tra i denti eh e poi ancora eh vediamo un po' se mi ricordo l'ho fatto un po' di tempo fa line and distance e justification sì una serie di cose che riguardano i parametri dei dentelli e i parametri principali della curva stessa e questa cosa è molto comoda perché queste poi sono delle ricorrenze gli elementi diciamo che eh uno si customizza in questo modo possono essere identificati come delle ricorrenze presenti negli edifici storici ma non presenti negli edifici eh contemporanei e quindi si potrebbe fare una banca dati di oggetti eh customizzati utili proprio per essere poi utilizzati su una serie di edifici anche questo no? anche questo è un portale che eh in qualche modo è un elemento customizzato in cui effettivamente posso pensare che eh nelle proprietà dell'oggetto stesso ok qui posso decidere eh per esempio la possibilità di avere buchi oppure no vedete i buchi possono essere eh buchi eh presenti posso cambiare effettivamente il numero dei buchi non sto parlando della parte informativa dell'oggetto eh sta parlando solamente della parte morfologica che si risolve attraverso delle famiglie parametriche quindi si potrebbe aumentare il numero possono aumentare anche le dimensioni i fori potrebbero essere anche per esempio fori eh passanti quindi yes e quindi questi fori diventano passanti e fanno luce eccetera e e quindi ecco qui che c'è la possibilità appunto di gestire oltre agli elementi diciamo ordinari anche degli elementi straordinari ma che in realtà sono delle ricorrenze presenti soprattutto negli edifici eh storici vi faccio illustro come può essere generata una famiglia una famiglia in questo caso eh viene costruita a partire da elementi disponibili in cui loro stanno eh la eh Asuni la Asuni è la casa che produce VisualArc eh diciamo stiamo un po' dialogando per capire come generalizzare questo processo di costruzione delle famiglie io in questo caso ho diciamo smontato degli elementi standardizzati e quelli più simili alla cornice erano per esempio le ringhiere le ho smontate e poi le ho ricostruite eh con forme diverse per eh diciamo costruire appunto eh dentelli e cornici e generare quella moda natura quindi vedete questa è la definizione utile a creare una famiglia eh diciamo nuova nuova da inserire in una banca dati di elementi parametrici che possono essere utilizzati per la modellazione è ovvio che questa cosa che si fa per che io ho fatto per mio interesse per edifici antichi può essere anche eh fatta per edifici eh contemporanei che magari hanno degli elementi non non standardizzati poi va bene l'utilità è quella che poi eh si conosce eh VisualArch aggiunge anche delle altre necessità per esempio posso io andare a collezionare un certo numero di sezioni che mi permettono ah in questo caso ho parametrizzato anche il sistema di volte anche loro sono degli elementi parametrici eh che eh hanno diverse eh condizioni no per esempio il raggio il raggio delle delle parti curvate di questa volta e per esempio posso provo sperando che non esploda perché qui c'è sempre il problema che ha un portatilino su cui sto lavorando però per esempio posso eh scrivere qui eh tre e quindi vedete che si questo diminuisce la volta si abbassa oppure quattro quindi gli restituisco la sua natura questa volta ma in realtà abbiamo disegnato abbiamo plurale insomma ho disegnato eh altre eh situazioni quindi vado a vedere se ci sono altre sezioni interessanti ecco anche questa è una volta sempre parametrizzata adesso vedo le linee di giunzione ma se vado a togliere diciamo quelle che sono le le curve di bordo verbo modello estremamente liscio e ben curvato e diciamo che io la finirei qui e vi rimanderei eventuali altre comunicazioni che eh saranno fatte più avanti tra l'altro ho intenzione di fare dei corsi legati proprio a questi temi eh che sono poi però dei temi avanzati i corsi che terrò quindi seguitemi se sarete interessati non sono dei corsi legati all'apprendimento base del del modello ma sono invece corsi legati proprio a delle questioni specifiche sull'architettura contemporanea e sulla possibilità di modellare anche dell'architettura antica attraverso l'utilizzo di famiglie customizzate lascerei spazi eventualmente a delle domande forse no non andrebbe bene anche così ci sono delle ci sono delle domande allora ok Luca Trombin io non riesco a comprendere bene le potenzialità delle sub D le ho usate in altri programmi ma mi sembrano più virtuosismi estetici che strumenti di progetto controllabili come eh come renderli tali allora sì diciamo che non hai tutti i torti però secondo me eh attraverso Rhino comincia a legare le sub D a a reti di curve oppure a partire da processi controllabili delle NARDS quindi secondo me visti sotto quest'ottica Luca possono essere diciamo estremamente efficaci poi nel modello che ti ho presentato la superficie partiva il modello è un modello espressivo costruito come se fosse una scultura ma poi in realtà attraverso processi di discretizzazione io riesco a controllare il modello stesso questo è un metodo quindi si passa dal dal modello concettuale al modello costruito all'interno di un unico ambiente per me questo è un grande potenziale però questa è una visione mia ovviamente ognuno di voi ha delle esperienze specifiche e magari non rientrano all'interno dei propri percorsi un certo tipo di modo di fare però ti ripeto la possibilità di quasi modellare con le mani delle condizioni a partire anche da strumenti da curve misurate eccetera permette poi di creare dei processi di discretizzazione per arrivare poi a elementi costruttivi mi sembra un buon percorso a mio avviso Danilo Danilo Battistelli trovo che informare un modello tridimensionale sia molto interessante oltre a visualare quali altri software possiamo utilizzare per sfruttare questi concetti nel mondo del design del prodotto allora nel mondo del design del prodotto Danilo io diciamo mi appoggierei sempre a Rai ma la risposta non potrebbe essere diversa non è che conosco un miliardo di strumenti però diciamo che ci sono delle plug-in interessanti come potrebbe essere Human ed Elefront che sono diciamo strumenti che informano geometrie quindi tu dai un nome all'attributo dai il valore all'attributo e questi attributi vanno a cuocersi dentro le geometrie Elefront e Human ti permettono di farlo sono due plug-in di Grasshopper poi Luca un corso su visual che Grasshopper sarebbe interessante ne ho visti pochi in giro lo farò lo sto preparando sarà un corso di poche ore un corso di pochissime ore parliamo di dieci ore con prezzi accessibili e online Luca Trombin ok capito non l'avevo vista sotto quest'ottica grazie mille grazie a te per la domanda Danilo Battistelli grazie grazie a te Danilo per essere qui e per aver fatto la domanda qualche altra domanda curiosa di cui si può discutere insieme diamoci un 5 minuti e poi vi lascio le vostre cose c'è qualche altra curiosità ragazzi non dimenticate e a questo ci tengo di fare commenti sui post su Facebook potrebbe essere anche ha detto delle cose che non stanno venire niente oppure semplicemente perfetto corso è andato bene è piaciuto la comunicazione è stata interessante vedete voi però fate un po' di tantamma per favore su queste comunicazioni allora mi sembra che le questioni di questioni non non ve ne siano mi auguro abbiate gradito questo piccolo intervento che serviva semplicemente ad accendere delle curiosità vediamo un po' se ho letto qualcosa solo un secondo Pio Lorenzo Cocco ok anzi no qui c'è anche Federico Maria Larussa che ha consegnato Mario Larussa che ha consegnato ha fatto uno due tre domande allora gestione di livelli di dettaglio alto medio basso purtroppo in visual arc questa cosa non esiste almeno che non si riesca a lavorare diciamo sulla grafica degli oggetti e ci si può lavorare un minimo sulla grafica degli oggetti ma non è un sistema avanzato Federico come quello che può essere di un BIM ordinario qualità FC esportati da visual arc buoni loro ci stanno lavorando molto ovviamente loro dico la Sunicad ci sta lavorando molto e si sta confrontando tanto con Reddit è ovvio che per quanto riguarda diciamo modelli famiglie customizzate non otterrai mai un grande livello di diciamo comunicazione non l'ho ancora sperimentata questa cosa creazione di singoli edifici nella gestione di livelli di isol arc quindi possibilità di esportare singoli edifici allora creazione singoli edifici nella gestione di livelli di isol arc quindi la possibilità di esportare singoli edifici magari specifica un po' meglio io ti cerco di rispondere al meglio poi Pio Lorenzo Cocco per quanto riguarda l'esportazione del modello BIM che possibilità offre visual arc permette di esportare in IFC quindi un IFC che è sempre in guardate faccio vedere questa cosa che potrebbe essere interessante diciamo che se io vado per esempio in visual arc e nella parte finale in generic lui ha diciamo alcune possibilità di taggare ed esportare in IFC ma anche semplicemente qui file save as o no sbagliato file save as e qui trovate se installate visual arc la possibilità di esportare in IFC 2x3 che dovrebbe essere discreto di BIM sto cominciando adesso a capirci qualcosa ma confrontandomi con chi ne sa sembra che possa essere un buon format di comunicazione Federico Mario la russa specificherà sta specificando la domanda nella gestione dei livelli si possono creare diversi building si si possono creare diversi building da quel che ho visto assegnando ad ognuno diversi livelli la differenza di un reit dove il fai progetto no si possono effettivamente creare diversi building se vuoi ne parliamo tanto ci conosciamo siamo amici e mi puoi chiedere queste cose molto specifiche in condizioni quando ti pare a te tutto qua se non c'è altro ripeto spero che la comunicazione sia stata di vostro gradimento adesso ritorniamo nel calore delle nostre stanze a fare queste cose cerchiamo di restare a casa prima o poi questa situazione passerà vi saluto vi prego seguitemi e ricordatevi di scrivere qualcosa al di sotto dei post ciao a tutti grazie a tutti Grazie a tutti